Siamo tutti fratelli e sorelle, non si fa distinzione di religione e di cultura, ma poi questa terra che è stata sempre accarezzata, attraversata da popoli, dobbiamo prenderci cura di quelli locali, dei sofferenti della tua città, del tuo quartiere, della tua terra, ma ti devi prendere cura anche di chi viene da lontano, anche lui è una persona che chiede aiuto. Allora dobbiamo essere pronti ad aiutare quelli locali, ma quelli che vengono da lontano, ma sia loro sia quelli tutti insieme per costruire un mondo migliore, un mondo migliore.